Con le 30 kill ti danno un altro pacchettino 30 kill? Sulla modalità nuova? Sì, sull'evento Potremmo andarla a fare dopo questa partita Ah, è andato a fare vogliono dopo un quinto Ah, ok Vuoi sapere una cosa simpata? Ma sono le 4 e mezza! Ma dai, adesso è lì No, ma io devo scappare via Hai ragione Fatelo Ma pensavo fossero le 3 Pensavo fossero le 3 Too late Too late you're not going anywhere now We ban We ban cana Vieni alla scuola Elisa? Sì 5 e mezza vado via di soli Eh vabbè, andrà in là senza mangiare Eh sì, vado via Devo stare lì 5 ore 3 ore di elettronica senza mangiare Mi addormento Eh, quello che faccio è voglio per schippare Vado via il culo, voglio venire promosso Come fai a schippare le lezioni? Dormentati Dopo a certo punto A certo punto ti viene in alto, in alto Su... Tipo alla... Guardi un attimo verso la professoressa E a certo punto ti viene fuori Non puoi dormire quando ci sono in bicinto Nelle vicinanze Oh no, oh no Tieni premuto spacebar per saltare la cutscene Ah 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 Sto immaginando Perché non salta sta cutscene? Oh no, hai gameplay Hai Genshin Impact che non puoi saltare i dialoghi Che mi banca quando c'erano i cheater che ti ammazzavano nel pre-round con il drone di Twitch C'era in distanzibile Pellendo Flost e via Posso 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 Serbia Romania Io Mamma Noi siamo Noi siamo della Romania Ma nooo Nel Cosco Nella Serbia Tua mamma Ecco in cosa siamo Ma nooo Eh, la rotation è dalla parte sbagliata No, no, va bene anche lì Va bene anche lì Va bene anche lì Il mercato che c'è davanti la porta Ok, stanno entrando da Leo, metti la cosa che rallenta sulle scale Te l'ho messa lì di fianco Vai Leo, porco Da dubbi Che quella non era una buona rotation Ah ma finché l'ha lasciato dentro ragazzi Eh già Ma ditelo È dentro ancora Eh, mi sa di sì Via destra Ok, Bionis Guarda che il culo me l'ha rotto con la granata Finché dentro c'è anche Sledge Mi ha ucciso dopo che è andato Spora No Nooo Perché Dove era? Era davanti a te Era letteralmente davanti Era il drone quello Era letteralmente davanti a te Era il drone Io non ho visto il drone Cioè io ho visto solo il drone Quello lì era il drone Raga Ha dronato per quello che l'ha fatta così Ma lol Quello è stato il peggior uso del C4 che abbia mai visto in tutta la mia Meno male Meno male che hanno una mira di merda Ah 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 Ciao Finca What the fuck Ah ma Finca è quella che parte tipo Fai una dad freddy né L'ha fatta la rotation Ciao Ash Fa bene Fa bene Eh infarti Sono verso Fireplace Leo sopra di te Stai attento Ma no violi Sarà mio Porca di quella Oh Oh C'è Glaz dentro È a piano Ma Dio madonna Dentro Vuol dire dentro È detto a piano dopo Eh non era a piano È tornato indietro il corridoio Perché era entrato in piano Eh minchia Perché lo era dentro Mi ha ucciso È andato avanti Ero sulla porta io È tornato indietro Dopo che ha ucciso due persone Quindi vieni a mettere il filo spinato davanti Ai Ma potremmi dirlo che dobbiamo mettere il filo spinato Lì davanti Dove l'ha Non ce l'hai Lì Non ce l'ho il filo spinato Allora metti le cose Aspetta aspetta non metterlo subito Togliti l'indie C'è una cosa Ok Ora mettilo non sopra la zami Però se lo rompono da fuori Mettilo piuttosto sul muro Qua C'è lì e E un altro qua Dalla slitta Qua dalla slitta Qua dalla slitta Quindi Qui Qui dove stiamo sparando Qui dove stiamo sparando Qua Ok Sorry Sorry Non vedevo il pling Pling go out Cazzo 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 Così L'ultimo credo fosse Ace fuori Da garage Ed ok Beh l'avete già ucciso Ed ok Ve l'ho ammazzata io Rotation Credo Dici Sì è fatto No No Rotation Sì è fatto Aspetta È qui Ah sì è qui Minchia Zero non ha le granate Vero? No Minchia Meno Sarebbe stato Sblocato Non mi ricordo Zero Le granate Leo C'ha le claymore No claymore E cariche pesanti No no Sarebbe stato sbroccato Quelle granate Sotto Sotto Allora fammi prendere Immaginati Immaginati I puls in attacco Immaginati I puls in attacco Esatto Non propriamente Sì sì Scherzi Hanno Kaid Ha già messo tutto Quanto è strazato Vedo vedo Il Kaid Chi è che ha le claymore No bandit È di sopra Allora Kaid È là sopra Il bandit Ha messo I trick e tracco Sotto Ah ok Quindi non c'è Kaid Che è bandit Counterproductive Sì sì Lascia con noi Sì è Indy Indy devi mettere Una claymore qua Sul 3 Sul 3 Sul 3 Devi mettere una claymore Lassù Perché di solito Fanno run out Da quella finestra Nel c4 Da l'ha ripiccato Dal c4 E niente No non c'è Non trickato È lì È lì dietro Oh sorry Volevo che rimbalzasse Eh Finisciatemi Sorry Volevo che rimbalzasse Eh C'è il coso In mezzo ai coglioni Devo entrare Più dentro È lì Copritemi Va bene Anche così Eh sorry Devo entrare più dentro Perché il Kaid Aveva messo Aveva triccato al volo Adoro troppo le armi Semi automatiche Sono troppo divertenti Se non fosse che Il bandit Gli stavo sparando Sul casco Ma non lo prendevo In quel che Let's go Non l'ho mai provata Come ho detto In Giappone Kunai che shottano Kunai shottano Hai 200 di vita E i shotgun Press pace To skip the catching Madonna Proprio Voglio il press pace To skip the catching Di Overwatch Ah è Dead Mage Ok No è Conquista la bandiera Dovreste cambiare La rotellina centrale Perché con la rotellina Ci c'è anche armi Cacchio Eeeh Bastardo Non sto più incontrando Nessuno Ehm Ah ma stai tu io Eeeh Bastardo La L'ho lanciata In culo Ah Ma 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 Non lancia kunai Sto gioco Non lancia kunai Ma dai che ti ho lanzato le cose Ma non è possibile Ce n'è pa possibile C'è no Scusami Io 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 Ma scusami Io ti sparo O non muori Lui mi spara E io muoio Ma tu dove E anche a me Si ma non va C'è loro ammazzano Con i kunai Ma è tutto normale Ma dio Dio Luce dell'Enel Ma scusami Ma il presentimento Che Indy L'han preso Shotganate Ehm Normale Sto tentando di capire Che cosa succede Non capisco nulla Ma Scusami Però fa tutta doppietta Così a caso Io La mira Eeeh Siamo una cosa Unica Ehm Fire Scusami Ti sparo Non muore Lui spara Esplodo Allo Ci Ma cosa L'intero team Sta arrivando Davanti a te Indy Indy dico di sì però però lì stavo tenendo come non so cosa qui madò ma che culo che cosa ho fatto fatto un trick della madonna scusi e mori bravo bravo stavo tentando ammazzare quello me l'hai ammazzato tu bravo ha fatto io l'ultima che il nice e ovviamente io sono mvp fiamma intermittenza vai che si spegne è in